Pronto? Sì, ciao. Sì, ti contattavo per il tuo annuncio dell'Air Jordan e oggi verso le 3 ci ti va bene? Ok, perfetto. Ci vediamo dopo. Grazie, ciao, ciao, ciao. Allora... Mi scappi, dai, dammi i soldi qui. Bello. Ma porca puttana, ma che cazzo? Fottuto pezzo di merda. C'è un malacca? C'è un malacca? Hai diman, eh? Cicolata, c'iquita, c'iqui, c'iquita.